Tintarella è un'intera giornata di eventi, trasporto e musica dopo tre anni tra pandemia e questioni giudiziarie riapre oggi ufficialmente la spiaggia di Torrequetta a Bari, cancelli e aperti da giovedì scorso. Le ricerche andranno avanti fino a domenica, sono tornati a casa i parenti dei due dispersi pugliesi dell'affondamento del rimorchiatore Franco P dopo 48 ore di attesa nel porto del capoluogo. Nasce il comitato civico Resto a Foggia, promosso dall'ex consigliere comunale e già candidato sindaco Giuseppe Mainiero e il governatore Michele Emiliano lancia l'idea di una consulta permanente per la città e il piano strategico. Buon pomeriggio, bentornati all'appuntamento in diretta con l'informazione dedicata alle province di Bari, Battefoggia. In apertura il primo giorno, quello inaugurale di Torrequetta a Bari, Tintarella, una giornata tutta dedicata al calendario di eventi, trasporto e musica ed una spiaggia che torna ai baresi dopo tre anni. Vediamo. Allora stiamo organizzando delle uscite in SAP, stiamo facendo provare anche se diciamo in maniera simbolica che è il surf da onda, abbiamo un indoor board su cui allenarsi per fare pratica. Dopo aver fatto indoor board puoi fare surf da onda con molta facilità. Dopo tre anni di pandemia e bag giudiziaria, Torrequetta torna al suo antico splendore e lo fa con una giornata di festa tra sport e musica. Non abbiamo portato solo i kayak stamattina praticamente. La costa barese si presta tantissimo? Si presta moltissimo, infatti io ritengo che ci sia più gente in mare che gente a terra a passeggiare sul lungomare. Assessore, una giornata tutto sport per inaugurare ufficialmente Torrequetta che ritorna ai baresi? Beh, non solo sport, perché dopo aver bruciato un po' di calorie, quelle calorie vanno riacquisite in uno dei tanti chioschetti che ci sono. Questa è una cosa promozionale per dire che è bello che abbiano aperto Torrequetta in una splendida giornata di sole. Spero sia così tutto l'anno e c'è tanto sport, c'è un'area surf, c'è uno degli attrezzi ginnici, c'è uno dei campi da beach volley. Quindi davvero è la maniera per divertirsi stando insieme ma stando anche in forma. Venite a Torrequetta. Vuol dire anche turismo, ma è come in questa stagione, settore che affronta temi come il mismatch di competenze, ma che guarda tra l'altro all'enogastronomia come volano per destagionalizzare specie nelle aree interne. Il punto ieri alla presenza del Ministro per le politiche agricole Patuanelli e queste alcune delle suggestioni. Il mismatch delle competenze ma anche l'enogastronomia come volano per destagionalizzare il turismo. Dall'evento di Altamura alla presenza del Ministro Patuanelli, l'agenda della politica di settore e le richieste degli operatori. Noi dobbiamo preparare i ragazzi di oggi, del domani e soprattutto nell'enogastronomia, che è l'unico modo per destagionalizzare il turismo e avere i dieci mesi l'anno di turismo, perché i comuni balneari vanno avanti, l'abbiamo visto nella pandemia, vanno avanti anche senza troppa pubblicità. I comuni delle aree interne come Altamura vanno avanti anche per l'enogastronomia. È necessario che la scuola sia collegata all'imprenditoria, che quindi forma delle persone che poi possono essere utilizzate nel mondo del lavoro. Soltanto chi ha visione riesce poi a fare quella sinergia tra le istituzioni diverse, ma che hanno lo stesso obiettivo che è quello della valorizzazione del nostro territorio e della nostra Puglia. Da piccoli, già da 10-11 anni, si entrava come gazzone in laboratorio, quindi così io mi sono formato. Qua c'è un valore aggiunto che è quello della scuola. Qual è il segreto che hai raccontato ai ragazzi? Beh, il segreto di questo intanto è questo lievito madre che nasce da acqua e farina. E noi abbiamo un microclima qua nella zona, anche perché poi il pane è diventato famoso, che è ottimale per quanto riguarda gli enzimi che si vanno a creare naturalmente nel tempo. Fare il barma non significa solo miscelare o mettere dei prodotti insieme. Ci vogliono delle conoscenze, delle capacità, conoscenze merceologiche, abilità tecniche. La domanda all'offerta, purtroppo questo è un periodo un po' critico per la ristorazione a causa della pandemia. Molti professionisti sono stati costretti a cambiare lavoro. Quindi la domanda all'offerta al momento è in starsi. Cambiamo decisamente tono e argomento. È tornata regolare dopo gli accertamenti dell'autorità giudiziaria di Trani. La circolazione ferroviaria sulla tratta Foggia-Bari era stata sospesa all'alba a causa dell'investimento mortale di un uomo tra le stazioni di Trinitapoli e Barletta. Travolto, quando erano da poco passate le sei del mattino, il convoglio viaggiava a circa 150 km orari e non c'è stato scampo. Ancora ignota l'identità dell'uomo e i fatti sulla linea Foggia-Bari. Nello specifico nel tratto tra Barletta e la vicina Trinitapoli, sull'episodio indaga la procura di Trani con la polizia ferroviaria. A causa dell'investimento il traffico è stato inizialmente sospeso e poi dalle 8.40 sulla linea Foggia-Bari è ancora fortemente rallentato. Si procede su un unico binario con ritardi che si stimano tra i 60 e i 120 minuti per tutti i treni a alta velocità intercity da e per Milano, Roma, Bologna, Torino e Venezia. Già attivato il servizio sostitutivo con bus per i treni del trasporto regionale tra Barletta e Foggia, Cerignola e il capoluogo e poi tra Foggia e Bari e viene a tuttora fornita assistenza ai passeggeri in attesa nelle stazioni. Si tratta del secondo episodio in pochi giorni. Un ventunenne che stava camminando sui binari è stato infatti investito ed è morto nella tarda mattinata di mercoledì in provincia di Foggia. Non si fermano intanto le ricerche dei due dispersi in mare, il 59enne Mauro Mongelli e il 60enne Sergio Bufo, entrambi originali di Molfetta dopo il naufragio del rimorchiatore Franco Pia avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì a 53 miglia dal porto di Bari. La procura intanto ha aperto un'inchiesta. La procura di Bari ha aperto un fascicolo d'inchiesta con l'ipotesi di concorso e naufragio e omicidio colposo plurimo nei confronti del comandante del rimorchiatore affondato tra mercoledì e giovedì. Il 63enne di Catania Giuseppe Petralia, unico sopravvissuto all'affondamento e attualmente ricoverato in ospedale a Bari, e l'armatore Antonio Santini, 78enne romano, legale rappresentante della società Ilma di Ancona, proprietaria del rimorchiatore del pontone. Il pontone AD3, che viaggiava a treno del rimorchiatore Franco Pia e Relitto, che si trova a circa 1000 metri di profondità, a 50 miglia dalla costa pugliese, sono stati sottoposti a sequestro probatorio. Il sequestro si è reso necessario per accertare la dinamica dell'affondamento del rimorchiatore rispetto della normativa sulla sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio a bordo dell'unità nautica. Si punta a ricostruire le circostanze del naufragio e le dinamiche relative alle operazioni di evacuazione e salvataggio delle persone a bordo del convoglio, l'eventuale irresponsabilità di coloro che erano deputati a coordinare le attività e il rispetto della normativa sulla sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio a bordo dell'unità navale. Intanto il comandante del rimorchiatore, il 63enne catanese, Giuseppe Petralia, unico sopravvissuto, resta in condizioni cliniche stazionarie e ricoverato alla divenere di Bari. Ancora in osservazione inintensiva. Nell'escorsione invece ha parlato il primo cittadino di Molfetta che attende con il fiato sospeso. In questo momento invece le ricerche sono ancora attive. Nel momento in cui le ricerche sono ancora attive, capite bene, che dobbiamo ipotizzare, seppure con margini di speranza molto fiemi, ma non possiamo dichiarare un punto cittadino nel momento in cui non ci sono ricordi. Sono tornati a casa i parenti dei due dispersi pugliesi dell'affondamento del rimorchiatore Franco Pi dopo 48 ore di attesa nel porto di Bari. I loro corpi non erano tra quelli arrivati al molo San Cataldo del capoluogo e le ricerche in mare vanno avanti. Sarà così fino a domenica, quando si farà il punto e si deciderà sul da farsi. A Molfetta intanto si attende con il fiato sospeso, ribadisce il sindaco Tommaso Minervini, chiedendo di non lasciare sole le marinerie e più tutela per chi lavora in mare. Intanto, nell'escursione nell'Istituto di Medicina Legale del Policlinico sono state formalmente riconosciute anche le altre due salme. Si tratta del 58enne di Ancona, Andrea Massimo Loi, e del 63enne di origini tunisine, residente a Pescara, Gelale Ahmed. Si dice, ci sono le morti sul lavoro e bisogna fare silenzio. Questa è l'annessima sciatura della marineria morfettese e bisogna fare silenzio. Io ero, sono e sarò sempre nel parere, davanti alle notte, ma gridavo. Altro che fare silenzio, non va affatto cadere in silenzio, perché la marineria di Molfetta è stanca di questi episodi. E chiudiamo la pagina di cronaca con le prime parole di Ferdinando Rossi, da neocuestore di Foggia, ad un mese dall'insediamento. È il mio compimese, come dicevamo prima. È un mese che si è rivelato molto intenso, ma io non mi aspettavo nulla di diverso. Devo dire che abbiamo dovuto gestire anche importanti situazioni di ordine pubblico. Ad un mese dal suo insediamento, il neocuestore di Foggia, Ferdinando Rossi, fa il punto delle principali emergenze prese in carico e gestite in questo breve lasso di tempo, dalle criticità legate al mondo calcistico a quelle del quartiere Ferrovia, ricordando la necessità di affrontare non solo le emergenze legate alle macro-criminalità, ma anche e soprattutto alle piccole sacche di legalità, che minano nel quotidiano l'ordine e la quete pubblica. Innanzitutto quelle connesse al calcio, perché il Foggia ha avuto accesso ai play-off, quindi ha disputato due partite importanti. Mi sono reso conto in questo primo mese di quelle che sono le emergenze del territorio, legate sia alla criminalità organizzata, che è qualcosa di vivente, pulsante in questa provincia, ma anche alle piccole sacche di legalità. Abbiamo pianificato con la Polizia Locale e altre forze di Polizia una serie di interventi nel quartiere Ferrovia e hanno dato già dei buoni risultati perché abbiamo rilevato la presenza di alcune, e siamo solo all'inizio, attività commerciali che non sono in regola. e noi cerchiamo di perseguire anche queste illegalità diffuse, perché la serie di illegalità diffuse poi va a concentrare un senso di smarrimento nella parte sana della popolazione. La politica con il Comitato Civico resta a Foggia a promuoverlo l'ex consigliere comunale e già candidato sindaco Giuseppe Mainiero, presente anche il governatore Michele Emiliano che rilancia sul piano strategico del capoluogo Davono. Ho avuto un invito da una persona per bene e naturalmente sono venuto a sentire cosa ha da dirmi. Poi nella mia galassia c'è di tutto, come è giusto che sia, io sono il presidente di tutti, non sono mica l'esclusivo di nessuno. Anche il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha accolto l'invito a prendere parte alla presentazione del Comitato Civico Resto a Foggia promosso dall'ex consigliere comunale Giuseppe Mainiero. Un'iniziativa dal basso, come da lui stesso definita, che si pone il dichiarato obiettivo di valorizzare energie e competenze per tentare di superare la condizione di degrado e abbandono in cui è sprofondata la città. Oggi è il tentativo di dire alla città, guardate, non aspettiamo supinamente la fine di un commissariamento che porterà alla morte civile dal punto di vista partecipativo delle idee e dei progetti, ma oggi viviamo la fase più importante, se volete, dal dopoguerra in tutta Italia. Basti pensare che in tutta Italia si stanno costruendo gli asili e le scuole e a Foggia le stiamo chiudendo. Se questo per voi non è una cosa grave, per me sì, perché oggi noi stiamo trasformando le scuole in civili abitazioni per l'emergenza abitativa. Ed è da questo che nacque, al di là dei retroscenisti, l'incontro con Emiliano. Io mandai una denuncia formale a tutte le autorità, beh, il presidente Emiliano mi chiamò. Uno dei modi per fare muovere le idee, il pensiero, è quello di discutere, di parlare, incontrarsi. Devo dire che io sono salito sul palco assieme al dottor Maiero, assieme a Pippo Cavaliere, ci siamo presentati sul palco, io facevo il presentatore quella sera, e se avessimo vinto le elezioni probabilmente saremmo scritto una pagina diversa. Avremmo evitato il commissariamento e anche l'umiliazione che Foggia ha subito a causa di quel commissariamento. Comunali assai più vicini invece quelle di Castellana Grotto e in Corsa c'è anche Domenico Quaranta. Si chiama Castellanae ed è la coalizione guidata da Domenico Quaranta, 42 anni, dottore commercialista e revisore contabile, consigliere comunale dal 2012. Dopo la cattiva riuscita delle trattative per una candidatura di Giuseppe Vinella, la coalizione, che conta tra le sue file l'assessore alle attività produttive uscente Vanni Sansonetti, ha virato forte sull'esponente di Laboratorio Comune, divenuto Laboratorio Popolare, e di Domenico Quaranta Sindaco, lista di professionisti a sostegno del candidato che poche ore fa si è presentato così nel suo comitato elettorale. Stasera abbiamo presentato alla cittadina la mia candidatura e tutta la squadra. Il momento è stato veramente esaltante. Abbiamo una grande voglia di far bene, di spiegare alla gente quelli che sono i nostri programmi, programmi concreti e fattibili, perché veniamo da un'esperienza e da una competenza che ci permetterà di avere una proposizione chiara, sappiamo cosa fare, quali sono tutte le leve che dobbiamo muovere per far bene per il Castellano. L'entusiasmo oggi è stato massimo e spero che continui e cresca in questa campagna elettorale. Perché scegliere voi e non le altre coalizioni? Noi cerchiamo di essere genuini, di essere quelli che siamo, quindi il cittadino castellanese tra le proposte vedrà una proposta vera, compatta, sintetica, fatta di gente che ha voglia di far bene per Castellana. Attività formative per mamma e papà con il progetto Il Cerchio Magico dell'Associazione Seconda Mamma. Corsi per elettricisti per la patente di estetica informatica e aiuto sala. Seconda mamma ne mette a segno un'altra e a Orto Domingo, al quartiere Poggio Franco di Bari, in una splendida mattinata di primavera, celebra le famiglie che in questi mesi ha sostenuto con il progetto finanziato da Orizzonti Solidali, il bando di concorso destinato al terzo settore pugliese, promosso dalla fondazione Megamark di Trani. L'associazione si è aggiudicato il contributo per il 2021 con il progetto Il Cerchio Perfetto che ha permesso ad adulti provenienti da contesti socio-economico disagiati di partecipare ad attività formative di vario genere finalizzate all'inserimento lavorativo e contestualmente offerto ai loro figli attività ludico-sportive o didattiche nelle ore di formazione dei genitori. I mesi sono stati faticosi, però sono stati bellissimi. Il progetto l'abbiamo portato a termine e prevedeva un corso di formazione molto tecnico per 20 persone delle famiglie che seguiamo, la maggior parte di queste sono donne. Le richieste di aiuto sono aumentate, è innegabile che il bacino di utenza è cresciuto e la gente ha bisogno di sostegno. Noi proviamo sempre a non voltare mai le spalle al dolore degli altri e ad essere una mano concreta verso un percorso di rinascita. Ma è un progetto dove vincono tutti, vince il consumatore perché si rende utile attraverso la fondazione Megamark con questi progetti bellissimi. Poi Seconda Mamma è veramente un'associazione veramente splendida, infatti mi vengono i brividi ogni volta che leggo i loro progetti. Il Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management del Politecnico di Bari è tra i primi in Italia. La struttura guidata dal professor Carbone conta su un punteggio di centocentesimi nella classifica degli istituti candidati all'eccellenza. Il Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management del Politecnico di Bari è tra i primi in Italia. La struttura guidata dal professor Carbone infatti può contare su un punteggio di centocentesimi nella classifica degli istituti candidati al titolo di Dipartimento di Eccellenza e non è neppure la prima volta che succede. Se si conta che è stato già valutato tale nel quinquennio 2018-22 ed è ad un passo dalla riconferma per quello successivo. e riconoscimenti che non restano solo su carta. Sono salde infatti le collaborazioni con aziende anche del settore dell'automotive. Abbiamo avuto una valutazione a fine progetto estremamente positiva dal Ministero e questo risultato nella classifica della VQR sull'indicatore di performance scientifica del Dipartimento ci conferma primi in Italia insieme ad altri 123-24 dipartimenti. Questo ci pone in una posizione di preminenza che ci permette nel prossimo bando che è già attivo per i Dipartimenti di Eccellenza di magari essere a un passo dalla riconferma. Se tutto andrà bene riusciremo ad avere un finanziamento di altri 10 milioni di euro con il quale riusciremo poi magari a potenziare ancora una volta l'attività di ricerca e l'attività di eccellenza del Dipartimento. Noi abbiamo, solo per darle un numero, abbiamo contratti con le aziende del territorio, quindi contratti privati, a parte i fondi pubblici di finanziamento, contratti privati per circa 4 milioni, 4 milioni e mezzo di euro. Ovviamente le nostre attività di ricerca qui non sono soltanto fini alla ricerca scientifica ma hanno poi come obiettivo finale il trasferimento tecnologico e quindi il trasferimento del know-how che si sviluppa durante la ricerca alle aziende. Questo ci viene riconosciuto e infatti abbiamo poi anche tutti questi contratti. Ma voglio aggiungere anche un'altra cosa per quanto riguarda un po' i fondi pubblici, i fondi europei. Il Dipartimento è riuscito ad attrarre fondi molto importanti di ricerca tra i quali per esempio i fondi dei progetti di rilevante interesse nazionale, un finanziamento del European Research Council che è stato dato al professor Papangelo, un prestigiosissimo finanziamento così come diverse maricchiorie e così via. Cioè siamo un Dipartimento effettivamente molto attivo, insomma di questo siamo effettivamente orgogliosi vorrei dire. E altrettanto d'eccellenza sarà certamente l'appuntamento di oggi con voi, con il nostro Don Mimo che vedo tra l'altro con un omaggio floreale. Buon pomeriggio Don Mimo. Grazie Antonio, buon pomeriggio a te, grazie per l'eccellenza. Allora, intanto sì, hai visto bene questo fiore perché è la rosa, siamo ormai entrati nella festa di Santa Rita, come vedete anche alle mie spalle, per cui il tema della puntata di oggi è dedicato a questa grande santa che riscuote tantissimi devoti, che ha un seguito di tanta gente, proprio perché Santa Rita ha ricoperto una serie di fasi della vita dell'essere umano, per cui tanta gente si rispecchia in lei e poi continueremo con i nostri viaggi e vi anticipo che avremo anche la banda di Bitritto che suonerà qui in diretta in onore di Santa Rita. A tra poco. Grazie, grazie Don Mimo e allora noi proseguiamo proprio con il Festival dell'Educazione organizzato dai padri salesiani. Nell'Istituto Salesiano Redentore al quartiere Libertà di Bari arriva il Festival dell'Educazione. Il nostro obbligo nei confronti del bambino è dargli un raggio di luce e questa celebre frase della pedagogista Maria Montessori a racchiudere il significato della manifestazione. Nuove politiche sociali e formative per diffondere la cultura dello stare insieme, alimentando quei processi di crescita dei ragazzi, in particolare di quelli a rischio povertà e devianza minorile. Tre giorni dedicati all'educazione nel segno del confronto, ma anche dello sport e della condivisione. Il tutto organizzato dallo stesso istituto a conclusione del progetto triennale di salesiani per il sociale APS, dal titolo Dare di più a chi ha avuto di meno. Il programma ha coinvolto dal 2018 tre istituti scolastici di Bari, Don Bosco, Garibaldi e Santarella, con la partecipazione di oltre 300 ragazzi fra gli 11 e 17 anni, ma anche i loro genitori e gli insegnanti. Ciascuno è stato coinvolto in azioni specifiche, quali la formazione, laboratori, attività extrascolastiche, finalizzati a ridurre i fenomeni di abbandono scolastico precoce, ad aumentare il senso di cittadinanza e l'autostima, supportando docenti e genitori nel compito educativo attraverso un sistema di scambio continuo tra scuola e famiglia. Parzialmente, secondo gli obiettivi prestabiliti, possiamo essere pienamente soddisfatti degli obiettivi raggiunti. Si è creata una rete, ciascuno secondo il proprio ruolo e ciascuno secondo le proprie possibilità. Noi come istituto redentore abbiamo cercato di tenere unita questa rete e di mettere al centro soprattutto percorsi educativi che fossero attinenti al preadolescente e all'adolescente nel contesto storico soprattutto della pandemia, che ha creato delle ferite notevoli, soprattutto in questa fascia d'età. Un appuntamento per confrontarsi sui temi del fashion e dell'ecosostenibilità. Palazzo Pugliese Atrani, Nunez celebra Stella McCartney e la sua nuova pelle vegana. Un talk sul futuro della sostenibilità nel mondo della moda. La location dell'appuntamento Palazzo Pugliese e Nunez, il luxury multi-brand di Trani, da sempre attento alle tematiche relative all'ambiente. A fornire il proprio punto di vista su questa nuova frontiera della moda, Eva Geraldine Fontanelli, eco-imprenditrice milanese, già collaboratrice con le Nazioni Unite per progetti sulla sostenibilità. Interprete e portavoce della filosofia della stilista Stella McCartney, pioniera paladina della moda etica, di cui condivide sensibilità, valori e stile. L'imprenditrice ha illustrato agli ospiti il percorso della fashion designer londinese e della ricerca e dello studio di nuove frontiere come Milo, una pelle vegana ottenuta dalla lavorazione del micelio dei funghi. È un segnale che va verso la grande sostenibilità, questa regione ha sposato in pieno questo progetto con tanta fatica, ma stiamo portando avanti noi come azienda, ma tante altre insieme con noi e i risultati stanno arrivando perché sinceramente vedo che sempre più c'è attenzione da parte dei turisti e di questi grandi brand a venire qui a rappresentarsi. Si guarda avanti, ovviamente l'essere umano evolve e la moda deve evolvere con esso, quindi ci sono delle ricerche sempre più approfondite sui materiali. Oggi abbiamo parlato di un materiale innovativo studiato da Stella McCartney fatto con i funghi e quindi no, no, assolutamente si guarda avanti, la moda è consumata da tantissime persone, vogliamo che abbia appunto un impatto positivo sul pianeta e quindi continuiamo a studiare perché questo impatto sia sempre più neutrale. La Proloco di Giovinazzo compie 60 anni per l'occasione, mostrato al pubblico per la prima volta dal 1979, un lavoro di ricucitura storica della memoria ecclesiastica della città. Un compleanno da ricordare è quello della Proloco di Giovinazzo e per ogni ricorrenza che si rispetti c'è un regalo speciale. Il presidente Francesco Paolo Martino ha organizzato un evento presso la concattedrale Maria Assunta in Cielo con la pubblicazione di questo egregio lavoro di ricucitura storica della memoria ecclesiastica della città a opera del dottor Michele Bonserio. Questo in mano impegno ha avuto inizio alla fine del 1979 grazie alla tenace e alla collaborazione della Proloco guidata dall'allora presidente il dottor Giovanni Pansini e all'entusiasmo dei soci tra i quali lo stesso autore il dottor Michele Bonserio, socio onorario, valente archivista paleografo e responsabile dell'archivio diocesano di Giovinazzo con oltre 40 anni di volontariato laicale reso al servizio della concattedrale, sua amata parrocchia dalla nascita. È un volume che ho prodotto grazie alla Proloco di Giovinazzo e a sponsor privati che hanno voluto e hanno creduto in questo messaggio documentario molto importante che contiene documenti anche inediti dal secolo XV al secolo XIX. Praticamente è l'inventario analitico dei documenti cartacei dall'archivio capitolare della catebrale di Giovinazzo. Sì, come presidente di Sinergia Italy, che è un'associazione che promuove i medi in Italy in tutto il mondo, quando mi è stata fatta la proposta dalla Proloco di sostenere questo capolavoro di questo bellissimo libro io chiaramente ho dato la mia disponibilità. Ci fermiamo, dopo di noi la pagina dedicata a Taranto, Brindisi e Lecce. Arrivederci. Rimani connesso. Scarica gratuitamente l'app di Antenna Sud. Trovi tutte le news, i programmi in streaming e on demand e le pagine social.